Musica Benvenuti in questo mio nuovo video C'è stata la patch 9.30 Andiamo a vedere la skin segreta di questa season Della season 9 Vi faccio vedere la skin Eccola qua guardate Questa è la skin Si chiama singolarità Ci sono nel gioco anche delle sfide Guardate Eccoli qua Si sbloccano con 90 fortbite nella stagione 9 Comunque qui potete vedere la skin del gioco Poi casomai le andremo anche a vedere nel gioco Questa skin ha anche degli stili Ve li faccio vedere Guardate Eccoli qua Ci sono anche degli altri stili Guardate Questi sono tutti gli stili Guardate quanti ce ne sono E se notiamo bene C'è questa skin con una maschera Ve la faccio vedere Eccola qua Questa maschera Praticamente c'era nell'evento della stagione 8 Per cui praticamente Ci hanno già spoilerato La skin segreta della season 9 Cosa c'entra questa skin Con la trama della stagione 9 C'entrerà qualcosa Questa skin se non sbaglio c'è anche a neopinnacoli Quella statua Non ricordo Comunque adesso andiamo a vedere tutti i nuovi stili Eccolo qua Guardate Questo è uno stile Con un vestito dorato Poi andiamo avanti Ha l'abbigliamento verde Poi andiamo avanti Questo ha come una tutina sopra Un'armatura Poi andiamo avanti Ok Cambia anche il colore dei capelli Guardate Poi passiamo al prossimo stile Questo Ok E passiamo all'ultimo stile Ovvero Questo qua Cosa potrebbe centrare questa skin Con la stagione 9 Non si sa Vi faccio vedere un'altra cosa Trovate nel file di gioco Che riguarda la collaborazione con Stranger Things Infatti sono stati trovati questi codici Che riguardano delle nuove probabili skin Forse ci saranno delle skin Che si potranno acquistare nello shop E' stata trovata anche un'altra cosa Nei file di gioco Ovvero Il conto Alla rovescia Dell'evento Che ci sarà nella stagione 9 Per cui possiamo dire che è vicino Questo evento Potrebbe avere a che fare con la creatura Infatti abbiamo visto che con la pace 9.30 Questa creatura ha lasciato una impronta A spondere il saccheggio E ha distrutto una fabbrica Ha anche danneggiato dei cavi Che portano l'elettricità a neopinnacoli Potrebbero centrare qualcosa da questi cavi Forse ci sarà un cortocircuito Che farà spegnere tutto Farà esplodere qualcosa Distruggere qualcosa Non si sa ancora Comunque andiamo a vedere nel gioco Questa skin segreta Ok siamo nel gioco Se andiamo su sfide E poi andiamo su stile Sono comparse queste sfide Per quanto riguarda la skin singolarità Ovvero la skin segreta della stagione 9 Guardate Queste sfide si sbloccano con 90 fortbite Nella stagione 9 Guardate intanto la skin nel gioco Questo è lo stile con la maschera Guardate Perfetto Adesso vi faccio vedere un'altra cosa Che non c'entra niente con la skin segreta Vi faccio vedere un nuovo minigioco Che è stato trovato nella mappa di fortnite Eccoci qua Praticamente se noi andiamo qua Qui ci sarà un nuovo minigioco Guardate Ve lo faccio vedere subito come funziona Noi tiriamo questa leva Avvia gioco memoria Guardate Bisogna ricordarci Quale si illumina per primo Ok La combinazione Uno Ok siamo a uno Ok Questo è facile E' simpatico come gioco Comunque se volete farlo Si trova qua Perfetto Va bene Questo video finisce qua Spero che ti sia piaciuto Se è così Iscriviti al canale Per restare sempre Aggiornato su fortnite Lascia un mi piace Per supportarmi Commenti Condividi Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzuoli Ciao